Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi di voi non ha mai desiderato di poter tenere aperte in contemporanea due app sullo schermo del proprio iPhone? È una funzione che su Android troviamo praticamente su tutti gli smartphone, dai top di gamma che costano più di 1000€ fino agli smartphone da 100€, anche meno euro, che possono quindi eseguire due app sullo stesso schermo, ad esempio Instagram e Twitter. Potrebbe essere comodo? Beh, su iPhone questo di fabbrica, iOS non consente di farlo, ma in questo video vi farò vedere come farlo senza jailbreak ma utilizzando un'app per lo più gratuita. E allora non perdiamo tempo e andiamo a scoprire come eseguire due app sullo schermo di iPhone. Allora ragazzi, eccoci qui. Prima di partire però con il video e quindi di andare a scaricare l'app che ci consentirà di avere due app in esecuzione sullo schermo dell'iPhone, vi voglio far vedere nella pratica quello che sarà il risultato che cercheremo di raggiungere, perché su iPhone comunque la gestione di due app in simultanea almeno fino ad iOS 11 non è presente, ma su Android sì. E allora mettiamo da parte l'iPhone X e prendiamo il OnePlus 5T. Perché? Perché su questo smartphone, come su tutti gli altri smartphone Android, questa funzione già c'è. E come si fa ad attivare? Beh, apriamo un'app qualsiasi tipo calendario, teniamo premuto su questa icona qui, vedete, escono queste app che avete già aperto, oppure potete andare a selezionare la singola app, a me va bene questa, messaggi, e quindi in questo modo posso andare ad eseguire due operazioni simultaneamente. Vedete, sto andando ad interagire sia col calendario sia con l'app qui, messaggi, posso scrivere, eccetera, eccetera. Questo è il risultato che si può ottenere con semplicità, come abbiamo visto, su Android. Su iPhone questa funzione non c'è, ma adesso appunto riprendiamo l'iPhone X e vi faccio vedere qual è l'app che dobbiamo scaricare. Ce l'ho nell'ultima pagina della mia home screen ed è Splitware. Questa applicazione è gratuita su App Store, ovviamente ora vado a copiare il link e poi ve lo condividerò all'interno della descrizione di questo video, così potrete scaricarla anche voi, è completamente gratuita, ma non perdiamo tempo, andiamo ad aprirla. E come vedete abbiamo già risolto, io ho già qui, due app in esecuzione sul mio device, in particolare Twitter e abbiamo anche Instagram. Ora però cercherò di spiegarvi bene cosa avete qui davanti a voi. Allora, premiamo il tasto Back, che devo dire si va un po' a nascondere con l'opzione lì per chiudere le app con la barretta. Questa app cosa permette di fare? Quindi come vedete c'è l'orario, il calendario, la data insomma, e poi abbiamo delle app qua sotto. Ad esempio c'è la i, che non è un'app ma ci spiega di preciso da chi è fatta l'app. Abbiamo Google Maps integrata, c'è qualche pubblicità purtroppo un po' fastidiosa, Google Maps integrata. Abbiamo poi questa sezione qui che ci permette di andare a specificare tra queste app, che sono solo queste, e questo poi ora ne parleremo, è uno dei limiti dell'app, quale tenere aperte insomma in simultanea. C'è anche YouTube e c'è anche l'app ufficiale di Google. Possiamo andare a creare però questi pacchetti di applicazioni. Qua c'è anche eBay e Amazon, ad esempio. Possiamo andare quindi ad utilizzare simultaneamente le due app, ma come vedete queste non sono veramente delle applicazioni, ma sono le interfacce web dei due servizi. Però in un momento in cui le app si ispirano totalmente alla relativa interfaccia web, prendete ad esempio quella di Amazon che è assolutamente identica all'applicazione, questa soluzione vi permette però, vedete, di interagire con due app simultaneamente, con due servizi simultaneamente. Vi permette di fare di più, in sostanza, di andare, che ne so, a cercare le offerte più recenti su Amazon, tipo questa qui, e al tempo stesso di andare ad aprire questa copia delle AirPods su eBay. E a questo punto poi se inserite i vostri dati potete anche procedere con l'acquisto simultaneamente dei due contenuti. Oppure, cosa che magari farà gola a più persone, come faccio io, per tenere sempre sotto controllo sia Instagram che Twitter, dove sono molto attivo su entrambi i social, faccio esattamente così, li apro entrambi e ora vi faccio anche vedere, se volete seguirmi, il mio profilo Twitter e poi anche il mio profilo Instagram. Vedete? Posso in questo momento andare a guardare i contenuti sia del mio Twitter sia del mio profilo Instagram. Guardate che belle queste tre foto black and white, tra l'altro mi sono piaciute parecchio. Vedete? Possiamo anche vedere i tag su Instagram. Questa ha quasi raggiunto 2000 like, ce n'era un'altra che ha superato i 3000, questa qui, veramente bella, eh? Non voglio essere di parte, però bella, anzi, va verso i quattro. E secondo me, già soltanto per questo, per avere Instagram e Twitter, ne vale la pena. Se poi non avete Twitter, comunque avete visto, c'è anche Facebook. Volendo, potete tramite questa sezione qui combinare, peccato appunto per le pubblicità, potete combinare le app che volete lasciare aperte. Chiudiamo. Tipo Facebook e Instagram. Le scegliete e lui le sistema esattamente così. Questo è comunque un altro modo interessante per interagire, salutiamo l'amico Antonio Fucito, per interagire con i due social network principali del momento, Facebook e Twitter. Quindi potete benissimo farlo, potete farlo anche con Google, se volete avere quindi a disposizione un browser bruttissimo a questa pubblicità di Final Fantasy. Ecco, l'unico vero problema sono queste pubblicità, però capisco che per essere l'app gratuita è un compromesso da accettare. Se adesso comparisse la freccetta per chiuderla, no, devo per forza giocare questa pubblicità, è fastidiosissima. Va bene, faccio il mio dovere e poi arrivo. Oh, ok, se n'è andata. Vi dicevo, c'è anche l'app di Google, se volete ad esempio avere il browser, quindi potete avere ad esempio, facciamo un'altra simulazione, Google con la ricerca e Instagram, vi metto ancora una volta il mio profilo, non per nascondervi i colleghi simpaticissimi che sono tutti qua in alto, ma perché così insomma guardate le mie foto, e poi ve le andate a guardare anche direttamente voi, magari utilizzando proprio questa applicazione. Quindi qui potete fare le vostre ricerche, ad esempio andiamo sul nostro sito internet Tech, il nostro secondo sito internet relativo canale YouTube. Vedete, ci sono gli ultimi video infatti che ho pubblicato su Tech, questi sono tutti i video realizzati comunque da me, ma andiamo sul sito internet e nel frattempo stiamo qui a scorrere il mio profilo Instagram, andiamo a leggere qualche commento. Ovviamente potete fare anche il login all'interno di queste app, io ad esempio l'ho fatto, altrimenti non potrei qui controllare tutti i coricini, rispondere ai commenti e così via, mentre qui in alto ho il sito internet, posso andare ad aprire ad esempio questo articolo sul nuovo smartphone Xiaomi da gaming, che sfida il Razer Phone. C'è qualche problemino, avete visto ora il nome del sito si nasconde dietro il notch, oppure fa questo effetto brutto, però diciamo che sul browser ci sta perché i siti si comportano tutti in modo diverso e con il nostro sito c'è questo problemino, non ci possiamo far molto, è più che altro un difetto dell'app. Ma in ogni caso ragazzi, secondo me questa è una novità interessante per gli utenti iPhone, certo non è lo split view tipico di Android, ma è già un ottimo passo in avanti, in attesa magari di iOS 12 che introduca questa funzionalità per tutte le applicazioni. E quindi ragazzi adesso sapete come tenere aperte in simultanea due app sullo schermo del vostro smartphone, del vostro iPhone, tramite quest'app gratuita, semplice da utilizzare, certamente ancora un po' incompleta, magari dovrebbero inserire qualche possibilità in più, però almeno per i social network va benissimo così. Se volete scaricare ovviamente come vi ho già detto lascio il link in descrizione, quindi cliccatelo perché così potrete scaricare gratuitamente l'app e se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile lasciatemi un bel like così aiutate il canale a crescere. Noi ci risentiamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone, seguitemi su Instagram per iPhoneItalia.com